Noi sono qui, non è stato il cittadino, non è arrivato a raggiungerlo, non è arrivato a raggiungerlo. Non è andata, non è andata, non è andata, non è andata. E giamati, il cittadino, non è andata, non è andata? E chi ama, mamma, che si non sa l'ho da strada, mamma. Sì, guarda, sì. Quando tu vuoi ti ho detto Marco, guarda, no, io non c'ho tempo da perdere, quando c'ho un po' della scuola, non c'ho mai. Ma no, basta. Ma io non l'ho lì, ma 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 l'ho lì. Ma l'ho lì, 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 ma lì, ma l'ho lì, ma l'ho lì, ma 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 lì, Grazie a tutti. Grazie a tutti.